Molta offerta, 232 tra alberghi, bed and breakfast, affitta camere solo nella città di Lecce e prezzi troppo competitivi, quasi stracciati. E la fotografia della ricettività nel Salento scattata dall'osservatorio alberghiero, strumento figlio dell'osservatorio turistico provinciale, istituito da Confcommercio e Federalberghi. Elementi, i primi, che contribuiscono alla crescita delle presenze nel 2013, più 8,9% quello relativo all'occupazione delle camere rispetto all'anno precedente, dato che si conferma anche nei primi mesi del 2014. Incoraggiante quest'ultimo è dovuto prevalentemente al boom del turismo congressuale, ma non per questo indicativo dell'avvio di efficaci politiche di destagionalizzazione. Cala invece la tariffa media giornaliera a meno 6% rispetto al 2012. I clienti apprezzano, ma sono tante le recensioni negative sul livello delle camere. Dobbiamo stare attenti a non svendere il territorio. Io penso che gli alberghi del Salento, non solamente quelli di Lecce, non abbiano nulla da invidiare a tante altre strutture ricettive che sono situate in città turistiche. Perciò, siccome offrono degli ottimi servizi, penso che bisognerebbe adeguarli un po' più verso l'alto. Da qui partire per ripensare la ricettività in un territorio che aspira a diventare capitale europea della cultura 2019, nel senso del miglioramento ulteriore degli standards qualitativi e di una più efficace promozione, ancora demandata quasi esclusivamente al passaparola. Primo banco di prova, Pasqua e 25 aprile. Sono tutte vacanze, tutti eventi e ricorrenze ravvicinate che possono far sperare in un soggiorno più lungo.